La ricerca incontra i cittadini, trasformando Milano in un grande laboratorio a cielo aperto. Il 29 e 30 settembre, Meet Me Tonight invita i milanesi di tutte le età a una due giorni dedicata alla scienza, con laboratori, talk e attività per i più piccoli. L'appuntamento è ai giardini Indro Montanelli e al Museo della Scienza e della Tecnologia. Meet Me Tonight. Gente ordinaria, con un lavoro straordinario. Vieni a conoscerlo.